Musica Benvenuti in questo nuovo video della vita in città 2 Quest'oggi andiamo a fare una bella missione di grado A Mentre aspettiamo un po' di novità che arrivano Tra cui appunto anche il nuovo sistema di avventurieri Ormai ne parlo da un mese e non esce, lo so Attendete ma sarà incredibile, super mega fighissimo, super mega bellissimo Dove coprire anche il fatto che mi sono incartato Ho una sorpresa incredibile per Fede Oggi si esalta di brutto Tutto l'ho letto dai vostri commenti quindi grazie Siete tipo super mega fantastici Fede impazzisce di sicuro Prima però, dato che vi lascio questa curiosità Ricordatevi che in edicola potete trovare i nostri bellissimi squishy Tutti da collezionare, super mega carini Ci siamo noi, ci sono i nostri gatti, la gang dei gatti E super mega carini, trovate in edicola e sono bellissimi Quindi andate a prenderli assolutamente in edicola Adesso sorpresa per Fede Poi andiamo a fare la missione Allora, allora, allora Cosa sarà mai? Di che avevamo questo barattolo qua vuoto Sì Ok, ho scoperto In cui io volevo mettere i biscotti Volevi mettere i biscotti Esatto, sì Invece c'è una cosa che tu vuoi nella vita reale Ok Che ancora non hai Un RPG No, non è quello Che ancora non hai E che posso fare quest'oggi Ok I diamanti I diamanti Nella vita reale Eh sì, non c'erano un diamante Nella vita reale Cioè, è qualcosa che hai chiesto un sacco La TNT Ma basta, ma lo smetti di essere scemente Che cosa ho chiesto un sacco? Vado, lo faccio? Vai Pronta? Vai Sei sicura? Sì, vai No Vabbè, ma non pensavo così Mo' stavo pensando alle scemenze Io dico sempre a Steph che voglio un pesciolino Anzi due Perché poi uno sarebbe solo E diventa triste Quindi due Ma che cazzo No, non sapevo si potesse fare un sacco È incredibile Ma sto malissimo È bellissimo È troppo carino È troppo carino Non so se se ne può mettere più di uno Sinceramente non ho idea Non ho provato E poi fa troppo ridere Perché guardalo di lato È tipo piatto Sì, sì, è una sottiletta Però quando lo guardi frontale È super carino E poi gira in tondo Quindi è carinissimo Ma no, vabbè È troppo carino Vero? Cioè abbiamo gli animali di tutti i tipi adesso Lo so, anche a me Ma troppo, vero Anche a me ha conquistato È meglio di biscotti Quindi Ecco come utilizziamo Appunto il jar Abbiamo un pesciolino in casa Tra i tanti animali Si è aggiunto anche il pesciolino Ok? Speriamo che almeno Su Minecraft i gatti Non puntino Non ce l'ho nella vita reale Almeno lo posso avere su Minecraft C'è meglio di nulla Adesso Cosa dobbiamo fare quest'oggi? Andiamo a fare una missione di grado A E andiamo però Anche ad incantare Ufficialmente Finalmente il piccone Non me la sento Ricordiamoci Che abbiamo la situazione Dell'armatura di Garibaldi Che per adesso Terremo Qua Hanno tutti riso Sì, è stato È stato veramente incredibile Dovremmo tutti piangere però Vabbè È stato molto tragico Guarda, guarda, guarda Guarda, guarda È venuto da noi È venuto da noi Compra tutto Compra, compra, compra Io ogni volta Faccio le scene Mi fai sempre paura Cioè io mi faccio i cavoli miei Mi spunti dietro Tutto silenzioso È questo l'obiettivo Salve Sapeva che ci serve Ed è venuto qua di proposito? No, io sono venuto qua Per darvi dei soldi In realtà Ah, grazie È sempre un piacere, vero? Sì No, mi sento in colpa Che è morto Garibaldi A casa mia Beh, però ne ho riso tutti Cioè L'hanno presa nel modo giusto Perché Tanto era già il terzo Ah, non era il quarto No, il quarto è il prossimo che arriva Credo, giusto? Era il terzo, sì, sì Vabbè Io vi volevo rimborsare Questo è quello che ho pagato Il mio cavallo Quindi andate da Marche E prendetevelo uno nuovo No Grazie Ma che carino, grazie Il rival di quarto L'apprezzerà Allora E sapete cosa? Dobbiamo mettergli qualche incantesimo Ho letto nei commenti che dicevano Mettetegli in mortalità Quel povero cavallo Sì Matericamente lui Nella sua armatura Ha Horse Protection 4 Però non serve a nulla Cioè muore lo stesso in due secondi Eh, ma perché quello era un attacco magico La magia è potente Anche secondo me Anche secondo me Forse dobbiamo mettere anche Magic Protection Comunque lei ci serve Allora Dobbiamo fare un piccone definitivo Quindi Bene Un altro Diamond pkx Esatto Questo è quello che avrà la fortuna Quindi l'altro è Trapanator Che è quello che scava velocissimo Me lo ricordo bene Questo invece è quello che ha la fortuna Abbiamo Unbreaking 3 Abbiamo Mending Abbiamo Pietra Preziosa 3 Che ho trovato nelle chest per fortuna Fortuna 3 E Smelter Manca soltanto Che dovrai mettere tu Efficiency 5 Ma quanti livelli mi verrà a causare? Sono 30.000 libri Io ho 38 livelli Quindi se poi ti servo Mi chiami Ok Ma quanti ve ne ho fatti di picconi? Scusate Credo che sia il quarto Sì, credo di sì Però teoricamente è definitivo Eh, perché li rubiamo È quello il punto Ci sarà anche il mio da fare Quindi non è nemmeno l'ottimo Sì, sì Fai ancora a zero picconi Quindi penso che Non mi lamento Non mi lamento Beh, senti Andiamo a fare la cosa dei livelli Vieni, vieni Andiamo Perché ne ho soltanto 12 E sicuramente qua Me ne serviranno almeno una quarantina Anche se Forse anche di più, guarda Forse anche di più Esattamente Allora Siamo pronti? Andiamo? Partiamo? No, per niente Stai, io non so se me la sento Un'altra missione di granata Allora Dato che io poi mi dimentico sempre Iniziamo a rimettere l'elmo Che se no me lo dimentico com'è Papere assassine Una papera Maledetta Infame Uno Due Tre Quattro Ok, perfetto Volevo tirare una freccia Vabbè Non c'è bisogno Contra le papere assassine Guarda, butto via anche le piume Che non le voglio Fanno schifo Allora Teoricamente Questa è la missione Abbiamo La fortezza deserta Ok Strane creature Sono state avvistate in questa fortezza Stermina tutti i nemici Trova la stanza del re Uccidi il re golem Quattro livelli aventuriero 50 monete d'argento Il re golem Stef Eh Guarda chi c'è lì Chi c'è? Ci sta cercando, vedi? È dato dritto a casa nostra Ma io Fai le spalle E ho una freccia alle spalle No, dai Ma povero Guarda, guarda Cosa vorrà? Ci stava chiamando Vedi, 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 vedi Io l'ho visto Cosa vuole questo qui? Buongiorno Salve, salve Io vedo che il vostro cavallo è bello in forma oggi Mamma mia Aspetta che sto provando a salirci sopra È invisibile Ah, no, infatti ho visto che avete sbloccato un'ova enchant Eh, no Quanti sono? Tre No Ne voglio di più Ma ce ne è dati Kendall quelli Eh, come vi è dati Kendall? Perché praticamente è morto a causa della sua magia che ha attorno a casa E quindi Kendall ha detto Tenete per comprarvi un nuovo cavallo Quindi praticamente Allora non posso chiedervi di più Pensavo l'avessero acceso voi Quindi vabbè, va bene, va bene, va bene Ah, devo cercare il quinto Garibaldi È il quarto Almeno conta nel modo giusto Eh, tanto qua perdiamo il conto Arriveremo più o meno al quindicesimo intorno a dicembre qua Sopra che vivrà per sempre, campione Ah, certo Ho visto che la sua armatura potentissima che le avete dato L'altra volta ha funzionato tanto, è proprio forte, eh Ti devo spaccare la faccia Ascolta, campione Io devo comprare un'armatura nuova Perché Perché guarda Questa qua in diamante è tutta quanta un po' distrutta Tutti e tre i pezzi? Eh, quanto costano tutti e tre i pezzi, campione? Allora E fai tre per tutti i pezzi Eh, ecco Io l'ammazzo Undici Eeeh Sedici Per tre E tre per sedici è facilissimo Perché fa Quarantotto Quarantotto Eh, ti ho battuto, eh Ti ho battuto, eh È stato molto bravo Quindi possiamo fare uno sconto di quaranta Accetto Eh, quarantadue Quaranta, dai Guarda, c'è il quarto Garibaldi Vabbè, quaranta Eh, dai, venga Allora, quindi cosa ti serve? Elmetto? Elmetto, inederite, gambari, piedini Mi servono, quindi Aspetta, inederite un corno in diamante Ah, come in diamante? Certo, campione Inederite costa molto di più Ma come? Eh, vorresti Tu ne vuoi di panini al prosciutto cotto? Abbiamo? Scusami, scusami Allora, facciamo così Eh Eh, solo gambari e piedini La testa non mi serve adesso Così me ne fai inederite con quaranta Credo che basti Da nazione a terra Io ho pure già craftato l'elmetto Eh, farei notare Vero, vero Immaginavo Ma come è fatto a craftare l'elmetto? Guardi che anche se lei Enchanterà queste nuove armature Sì Io comunque potrò trasformarle successivamente Inederite Eh, ma Ok, va bene Cos'ho Io non vi sto capendo, ragazzi C'è ogni volta Non ho capito questa scelta Quando vi incontrate voi Si crea un buco nero di incomprensione Infatti non ho capito Perché non puoi farmi inederite adesso? Non ne ho No Eh, se ne trova molto Rari, campione No, Mark Che devi capire Cos'è? Qua facciamo giro giro tondo E compagno inederite Non mi esprimo, guarda Nella vite in città è molto più rara del normale Ah, ok, ok, ok Quindi se ne trova pochissima, purtroppo Se la tengo da parte Ah, ma lei è proprio gentile Lei è un gentiluovo Ok Nel prossimo video verrò a riscuotere, eh Perché qua Lei che possiamo La nederite Non ce l'avremo Cioè io sto andando a fare una missione di grado Ah, campione Ah, ma lei è proprio un avventuriero, eh È proprio forte, eh È fortissima Vabbè, arrivederci, arrivederci Arrivederci Io, guarda, veramente Non ne posso più Vabbè, però La gente arriva e pensa che abbiamo la nederite Dalle tasche Stavi per dire qualcos'altro No, non le tasche Da dove non batte il sole No, no, non le tasche No, dicevo Eh Eh, me lo sono dimenticato Brava, complimenti Sei molto brava comunque Eh cavolo, mi distrae con le battute stupide Dove dobbiamo andare? Fortezza deserta Ah, fortezza deserta Era il primo Perfetto Ma di notte ci stiamo andando Eh, che ce frega noi Ah, volevo dire che comunque La cosa positiva è che almeno stanno finalmente Finalmente Mi incarto pure comprando delle cose da noi E abbiamo Di nuovo una moneta d'oro e 50 Appunto, scusa Ci lamentavamo sempre che nessuno comprava nulla Diciamo che sta andando meglio Sai che c'avevi ragione Sull'andare in giro di notte Eh Eh, vabbè Tiriamo dritti al dungeon Aspetta, voglio provare Voglio provare una cosa Ovvero Gli hai uccisi Voglio vedere se adesso davvero li posso colpire a distanza massima Ah, prova Ti ricordi che avevamo quel problema? Io paro Allora, vediamo Qualcosa è volato Ecco, guarda Mi hai visto? L'hai colpito? Guarda qui È potentissima Scusa Fere, che male Ti sei messo in mezzo quando volevo colpire Allora, ascoltami un attimo Tiriamo dritti dentro la fortezza Così notte o non notte non cambia nulla Esatto, sì, 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 sì Guerra, per favore con i fail Ragazzi, non avete visto niente Allora Perché ovviamente le missioni di Grodale fa lui, ragazzi Così poi noi andiamo E almeno non sappiamo cosa ci aspetta Secondo me dobbiamo sondare da qua O c'è un ingresso? Non lo so Facciamo un giro di rotondo Cerchiamo di capire dove guerra Entriamo da dove entra lui Che ti devo dire Allora, qui non c'è niente Qua vedo almeno delle finestre Ma che bella però, eh Sì, sembra un bel posto Ma è molto bella Molto aggressivo Eh, sarà cattiva però Questo è il posto giusto Usiamo il Trapanator Che cavolo è caduto dal cielo? Non lo so Bene, mi raccomando, attenta, eh Lo sai quanto sono difficili No Che male Ok, non iniziamo nel modo migliore, eh Sinceramente Ok Allora, peri, teoricamente il tuo arco adesso dovrebbe anche poter rompere Con le frecce esplosive normali I cavolo di spawner Ah, ok Allora, aspetta che me le provo a cambiare Così vediamo Quelle normali non potenziate Esatto E ce ne sarebbe bisogno perché No, dove siamo? Dove sei finito, Steph? Mi hai lasciato sola Sono dentro E dentro dove? E bene, sono entrato nelle stanze a rompere gli spawner Cosa devo fare? Mangiare paninetti Eh, ma qui è pieno di mostri che ti piovono in testa Eh, l'ho notato No, 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 no È terribile questa stanza Sto morendo Ma ne devo andare via Non so dove è andato Steph Morite Ok, rotto Così Sopra la cia te Mi hai colpito? Sì, ha fatto Mi hai, Fede, sopra di te L'altro l'ho rotto Ok, scappa Gli altri? Fede, scappa che se ti prendono ti spaccano in due Ma no, sono resistente Non mi fanno nulla Cioè, non è che non mi fanno nulla Mi fanno male, ma non così tanto Voglio le spalle Io vado in mezzo Steph? Bu Andiamo Non ho paura di voi Almeno comunque con ste frecce lì sciotto Quasi, eh Sto cercando tutti gli spawner del pian terreno io Eh, pure io Vai, Volpina Rotto un altro Attacca Qua mi sembra un certo Non muore sto robo Decisamente ho trovato un altro spawner Ok, ucciso Mamma mia Che brutti che sono Ok La stiamo gestendo La stiamo gestendo Sì, sì Per te Tu non hai idea di quanti sono qua gli spawner Allora, rush, 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 rush Uno Ho bisogno di efficiency 5 anche in sto piccone Perché a quel punto gli spawner li farò su presi Che cosa? Accidente, anche qui era pieno Cioè, pensavo fosse uno Invece se sono entrata sono altri Andiamo Non morire, Steph Yes No, ma qua ci sono anche gli scorpioni Pure Sì Allora, vi dovete togliere Toglietevi Se no io non posso rompere gli scorpioni Ve li ricordi gli scorpioni della missione La prima di gruppo Che l'è impossibile nelle torri? Sì Purtroppo sì Come me la gestisco, porca miseria Aspettate Sto cercando di arrivare da te Ok Non so se è questo Allora, cerco un attimino E questo dove sono io? Sì, credo di sì Ok Esatto Perché mi si mettevano in mezzo E quindi mi hanno parato tutte le frecce Ok Allora Ok C'è un problema gigante, no? No, no No, noi ne abbiamo già Esatto Esatto Quindi mi dispiace però Ok A posto No No Che vuol dire? Dai, ti prego No, 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 no Puoi non dircelo ora Mentre siamo incasinati In una missione Ho paura di leggere Allora Questa zona Secondo me Non l'abbiamo fatta Quindi Probabilmente Allora, io mi preparo Quelle esplosive Perché è probabile Che troveremo altri spawner Ah Ok No Sono piena di schifezze Nell'inventario È il più importante Kendal È il più importante Allora Ah, non ho letto Che ha scritto? Spacco, spacco, spacco È una terribile notizia Il più Eh, no È il più importante Il piccone a quello Serve purtroppo Ritroviamo Modo di Risolvere Aspetta, Steph Ok, rotto Ok Entriamo Vai Maledetti Infami Ce ne sono altri Una stanza piccola Una stanza piccola Allora Ma che doppio piccone si vuole? Il concetto è Quello Avere solo quel piccone E avere quello più tra fanator Se no non ha senso Ah, ecco chi è che fa sti rumori Che cavolo siete? Fere, abbiamo un problema Steph Ti ho riperso di nuovo Sono al piano di sopra, Fere Hai preso le scale? No, 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 no Sì Ok, ok Immaginavo Tanto sto salendo Mi sa che ti vedo Eccoti Rotto Ok, devi rompere tutti gli spawner Qua ho problemi pesanti Allora Levati, levati Molto pesanti Eh, devo anche caricare le frecce Mi devi dare un attimo di Brava Perché credo che mi diano Tipo una sorta di rallentamento Con questo Arctic E non posso picconare io Gli spawner Questo non me lo rompe, Steph Lo faccio io Cioè, lo faccio a mano Ok, andata Non me lo rompevo Perché quando stanno in mezzo Mi, capito Mi coprono l'esplosione Non esplode Quanto siete forti A livello di HP Lo spawner Fere, io ho 52 livelli Ok Ti rendi conto? Come fai ad avere 52 livelli? Appunto Ok Allora Andiamo avanti Allora Facciamo Oh my god Abbiamo un problema Grande quanto Di nuovo Una casa Si, mi mettono Una slowness Terribile Lo so, lo so Gli ho combattuti anch'io Perfetto Ok Dai, 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 dai Dovrebbe mancarne solo uno Inizio a correre Per togliere gli altri spawner Ci sono tipo dei magma block strani Ne vedo solo uno, però Io ne vedo uno qua Quanto siete forti voi? Ah Non siete per Perché mi rallentate Vi odio Pensavo foste più scarsi Ho un cuore di vita Incredibile Incredibile Mamma mia, così messo male Sì, sì Aiuto Girintondo, girintondo, girintondo Girintondo Guardate che casino che c'è qua dentro Allora Oh, sono imprendivista Andiamo così Non so che dirti Aspetta che li ho incastrati lì Ottimo Ok No, 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 no Che è sta roba Ma che è Aspetta che mi rimetto le frecce esplosive Perché non mi fate Picconare Muori, 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 muori Sono tornato full Ci sono certi tipi di mob Su cui ho difficoltato a coprire vita In quei momenti Rischio veramente tanto Stai, ho usato una freccia esplosiva Ne ho fatti esplodere quattro Che dovevo fare Bene Allora Levati Vai Ok, bravissima Ok, ce ne sono altri? Sì, un po' Spawner non credo Sì, nella testa Aspetta Rotto Perfetto Ok Oh, mamma mia Oh, my God Uff, mi sento stanca Non abbiamo ancora terminato Uno Due Poi Tre L'importante è schivare i loro attacchi Fino a quando li schivo Posso picconare in fretta Cosa No, di nuovo loro No No, ragazzi Questi sono terribili Appena si ferma Lo stendo Però aspetta Con la poliarme li stendo Quindi riusciamo comunque A sconfiggerli molto più rapidamente No, no Hanno meno vita dell'altra volta Sono sicuro No, secondo me siamo anche noi più forti E come? Eh, soprattutto io, Steph Beh, ok, però Altro l'altro non facevo danno C'è un limite Ok Fermati Allora Facciamo così Ti squaglio appena di fermi Proviamo così Aiuto Ok È finita Ok, dobbiamo andare ancora più su Ok Let's go Easy proprio Come cavolo vado lì sopra Ok Fatto Ma c'è un altro piano ancora Non ci posso credere Aspetta, aspetta Altro spawner Questo qua? Sì Lo fai tu Ci provo Fatto? O se non lo sparo io Allora Guardiamoci bene attorno No No, no, no Quelli che rotolano di nuovo Eh, Steph Qui sopra Comunque bisogna salire poi Bene, qua Qua è terribile Arrivo Qui è terribile Uno Due Ma posso farvi esplodere? Tre Quattro Cinque Credo che loro a priori siano immuni A tutti i tipi di danno Fino a quando non fermano Non si fermano dal rotolare Non ha senso neanche l'arco Perché poi con le frecce Non riesco a prendere il tempismo giusto E questa è la grande difficoltà Voglio che si fermino così E poi li massacri C'è qualche strano potere Che mi attira in un unico punto Ma che cos'è? Non ho mai Non ho mai visto una roba del genere Esatto È quello il problema Ok È tipo questa pianta strana Che spawna, credo Ok Abbiamo un problema enorme Con questa pianta Non so cosa sia Fere, ci deve essere un mob Che la spawna Ma non capisco dove Eh, sto cercando di capire Perché a me non sta facendo Quell'effetto, quindi Spawnano su di me Ecco questa pianta Ok Ok Stef, saranno questi Non ci sono altri mob Ma non hanno mai avuto sto potere Eh, magari è saltato fuori stavolta Non so che dirti Ma è impossibile, dai Ma non c'è altro Guardati Guardati attorno Cioè, quello Qua non c'è altro Buongiorno Eh, qui non c'è altro, Stef Spere Dove sei? Eh, ho tratto un boss Ma sei andato su? No, ho continuato a girare in tondo Ah, sei da quella parte Ok, arrivo Che ho visto dai vetri Per fortuna Eh Non metti torce Quindi non si capisce dove vai Spere No, è questo il boss? Sì Cioè, non so se è l'unico boss di oggi Allora, aspetta 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 Preccia normale Potenziata Vediamo quanto danno gli facciamo Precola devi far da vicino È come un fucile a pompa Te l'ho spiegato cento volte Mi riflette le frecce Molto bene Mi riflette le frecce Sono morto, scappa Allora La mia arma è inutilizzabile Allora Eh Già, così mi è casato se Vuoi provare Che succede? Oh, chi non ha capito Riesce a divare a rianimarmi? Sto cercando di passare da fuori, Stef Come faccio altrimenti? Che cammino Allora, mi servono blocchi Tanti, tanti blocchi E passo da fuori Non so perché Mi faceva un danno stranissimo Cioè, tipo caricava dei colpi da metà vita Non me l'aspettavo Bisogna capire come gestirlo Perché appena Mi ha buttato Si è caduta giù? Sì Tre cuori di vita Ti spara da lontano Mangia cibo Che devo fare? Spam e mangia cibo Sì, sì Però non so come gestirmela Secondo me mi può rianimare molto velocemente Comunque Lui è molto lento ad attaccare Quindi devi proprio entrare nella stanza e rianimarmi Senza scudo In modo che non hai quel blocco là E mi rianimi Esatto, rimango già pronta E via Concentrata, Fer Concentrata, eh Allora, io ne metterlo osservo Da dove si sale? Ti prego No, Stef Sono caduta in un punto In un angolo davvero scomodo Che ho trovato la zona delle scale Che dovrebbe essere questa Moriremo Moriremo Non ci salverà 220 secondi Tira dritto Tira dritto, Fer Senza scudo No È quello che mi fa Lo vedi? Fer, corri, 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 corri Vai ora Ci provo Non mi tirare nulla Ti prego No Ce l'ho fatta Scappa, scappa, scappa Stef, ho dei cuori neri stranissimi Allora, dovrei recuperare la vita combattendo Oh, mamma mia, ragazzi Io ci muoio Cioè, mi ha avvelenato I cuori neri ora si sono trasformati in verano Muori Muori prima che perdo il regen È morto? Sì Mamma mia, Stef Che salvataggio Sto per mettermi a piangere Presque non l'abbiamo finito, però Anche secondo me non era il boss boss Vero? Sì Questa missione è Cioè, non so che fare È assurda È assurda Allora, andiamo Ho quattro cuori Aspetta che mi devo recuperare del cibo L'ho finito tutto il cibo che avevo Ma perché mi hai portato così poco? No, ero piena, Stef Ma prendo comunque sberle Non so come te Eh, ho visto che io non prendo sberle oggi Ho visto proprio Eh, ma io non ho modo di curarmi come fai tu Quindi io mi devo mangiare il cibo Però io sto tirando dritto al buio Cercando di capire Io sto andando sopra Sei andato tutto su? Sì, sto salendo ste scale strette Ok, continuo Ok Eh, di nuovo voi Sto mettendo anche delle torce Mi siete mancati, maledetti infami Però vi uso per curarmi Sono talmente potente Eccoci Allora, almeno Ottimo, 32 frecce Allora, vediamo Eh, da quella parte forse Qui Ecco, vedete Lì come si sale Ok Proviamo a salirci con i blocchi, va Papà, papà, papà Io, Stef, mi sono un attimino risistemata tutto Cioè, ho preso addirittura il mio secondo zaino E ho iniziato a riempire quello Perché ho troppo Ok Però ci sono Dai, almeno l'inventario ho messo bene adesso Quasi Poi dovrò sistemare Perché questa accetta Non funziona? Oh, mannaggia Dove si è andato tutto giù? No, sto salendo E sto cercando di capire Cosa sono questi mob Che continuiamo a sentire Perché Eh, quindi vuol dire che c'è qualcosa Eh, per forza Ma non capisco Ah, c'è uno sponere in alto in questa stanza Ok Vedi la stanza in cui sono? No, Stef Perché io sono rimasta in quello stanza Vabbè, è la stanza dei carpet colorati Ah, sei più giù Aspetta, aspetta Vedo la tua scritta Quindi sei più giù rispetto a dove sono io Ok Comunque credo che la pianta carnivora La facciano quei mobettini schifosi Allora Non quelli che rotolano però, eh Qua non c'è Come fa ad avere Stef l'abilità di scomparire in tre secondi? Pere, la stanza del carpet Tanto trova quella Non devi trovare me È gigante La troverai prima o poi No, sto scesa tutto giù No, devi stare più su Eh, non ti trovo Ti devo dire Non ti trovo Aspetta, aspetta No, ti vedo Sei dall'altra parte Ok, no, allora è giusto Che mi dici di stare su? Vedi Pere, dietro la stanza Avevo ragione Io sei giù È detto piano Se mi dici tutto giù Vuol dire tutto giù No, giù Ma sai parlare in italiano? Senti tu che non sai parlare ragazzi Ma io ti s... Io l'ammazzo Basta, me ne vado Io l'ammazzo Io giuro che l'ammazzo Pere, lì in alto lo vedi? Dai zitto Lo vedi lo spawner? No, non lo vedo Ma dovevo sopra di te Ah, eccolo, lì in alto Ok Buongiorno Io la faccio Allora Non è esplosiva Aspetta Non mi ricordo che frecce ho Allora Secondo me abbiamo completato la missione Ma Non abbiamo completato in ambito di chest No, 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 ok Che succede? Poi avevo preso il jukebox per sbaglio Ho fatto un casino Uh, qui c'è, Stef, una bella cassa Eh Qui? Eh, qui dove sono io Non conosco il qui È una stanza tutta colorata col fuoco Una stanza tutta scolorata Quindi no, vuol dire che ce ne mancano parecchio Allora Eh, quasi Ta 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 Beh, Ferri, sei sceso di un piano tu Non so se ti sei accorta Sì, 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 sì Quindi dobbiamo aprire le ceste di tutti i piani Eh, su, stavi facendo tu Vabbè, ti aspetto Così le apriamo assieme Allora Eccolo, eccolo Qui non c'è nulla Qui c'è una cassa Qui mi pare non ci sia niente Se ho ben visto Qui non mi sembra ci sia niente Che c'è una spada Ok Eh, riesci a prendere tutto? Eh, sì, dovrei Perché tanto poi alla fine Sembrano tante Sì L'arco Stef L'ho starnutita Hai fatto paura Ma che vuol dire che mi È la prima volta che starnutisco in un video Secondo me No, forse ti è capitato un'altra volta Ah Io non riesco a starnutire Sto facendo un video Niench'io Perché sto concentrato ovviamente sul parlare Ragazzi, se parlate molto Non vi viene Cioè, anche se avete tipo il pizzicore al naso Non vi viene da starnutire Quindi è strano che ti venga così E invece ho starnutito È stato un momento importante Dopo la missione Per me bisogna clipare lo starnuto Anche secondo me Allora, questo punto Allora, guerra mi sussurra, Stef Sento un sussurro nell'orecchio Che mi dice Dietro di te c'è una cassa Adesso l'andrò a cercare Non è guerra però, scusami Era un sussurro Del Pick up upgrade Malachite Bombe E quest upgrade che Eccola Secondo me può essere Allora, Stef, la prendo io Ci sono altre frecce per me Ok Tre mele d'oro E due cycles Sei presente? Sono tipo degli uncini, no? No È presente gli uncini di Capitano Uncino Più in mano fatti così Però sono due Li teniamo per gli avventurieri Ok, ma è un'arma quindi? Sì, è un'arma, un'arma Ah, ok, vabbè, basta dimmi un'arma Ebbè, cioè, gli uncini A che cosa vuoi che servono? Dimmi un'arma debole Quindi la voce mi ha indicato la via per la cassa Che bello Ma era nascosta? Siamo scemi noi No, siamo scemi noi Era abbastanza visibile Mi fa molto piacere che stiamo perdendo pure le casse in giro Allora Eh, qui sopra Cioè, era in un angolo Però non era nascosta, capite? Ok Eh, qui non sto vedendo altro Credo Posso rendermi l'aiuto, che paura Che ufficialmente abbiamo aperto tutte le casse Credo Allora, guerra penso che mi avvisi se ce ne perdiamo una Come mi ha avvisato per quella Quindi Secondo me se non ci avvisa Tipo, ehi, vi state dimenticando Questa all'ingresso l'hai già presa E mi sa che c'è tutto, Steph Cioè, io ho rifatto comunque tutti i piani, eh Perché sono scesa dopo di te Comunque Ok Allora Eh, provo a completare la missione Quindi vediamo Quanti livelli dava? Non mi ricordo più Eh, quattro livelli Cinquanta d'argento Oppete Ok Prendiamo questo Facciamo così E facciamo così Abbiamo di nuovo due monete Più, come vedete Tanti soldini E cose varie Utili Questo non possiamo depositare nulla al momento Perché siamo tutto Oh my god Ragazzi Quei libri è una roba Veramente Allucinante Eh, ok Direi che Fere ti do una pergamena E torniamo a casa Ok Sì, direi Eh, fatemi controllare Anche se poi scusami L'uscita non è qui fuori, Steph Ah, hai ragione Perché sprecare Cioè, abbiamo il waypoint Hai ragione, hai ragione Guarda, sì Sono stupido Ma non so perché Ma lì c'è pure una piramide E ci voglio andare la prossima volta Bella Vabbè, ci torniamo Tanto abbiamo il checkpoint Ah, sono andato al postino Difendimi Sono stanco Al fiatone perché il postino L'ha costretto a scendere Quindi si è fatto le scale di corte Perché i postini arrivano solo il martedì? Non lo so Che è quando ne recchiamo la vita in città Ma poi cioè non ci capita mai Noi di solito al postino Diciamo Ok, lasciami il pacco giù Poi finiamo le registrazioni E ce l'andiamo a prendere, no? Sto morendo E invece questo l'ha fatto scendere Sto per morire Povero Steph Eccolo, Waston Non so come è stato più difficile L'ho tornata casa, yuppi Allora E' finita E' finita Adesso andiamo a capire Se perdiamo tutti i soldi Il problema del piccone Esatto Però non va bene Stato degli incantamenti Steph Cioè, bisogna trovare una soluzione Cioè, non posso spendere due reni Per farvi un piccone incantato Scusami E vabbè, però il piccone è finale Sì, ho capito Però deve avere anche un prezzo giusto Non può costare magari 50 Adesso, vediamo Vado? Capito? Vai Salve Ciao Perché sei così felice? Che cosa è successo? No, niente Niente, niente Ragazzi Io non vi dico E' stato un calvario Abbiamo dovuto scogitare un piano Anche per noi Marci Ok Allora Il piccone è fatto Ok Ha anche efficienza 5 Che è una cosa praticamente impossibile Da ottenere In un piccone con così tanti incantesimi Mi è costato super giù Un'ottantina di livelli Porca miseria Sei pazzo Sì Ma anche perché poi Marci mi ha dovuto dare il suo Abbiamo dovuto rifarlo Inserendo degli altri incantesimi Qui dobbiamo pagare anche Marci Allora andiamo a vendere la casa Sì Sì La vuoi una casa con un gatto sopra È molto carina Ma ti dirò Quasi quasi Per il prezzo del piccone Ci può stare Facciamo così Mi avete dato comunque 40 livelli voi Quindi Fai attenzione Quindi direi Lo so Lo so Lo so Facciamo un prezzo amico 30 d'argento Ok Ok Ah no Mi sembra onesto No però nei commenti mi linciano Ogni volta che vi chiedo Tutti questi soldi Allora magari Possiamo fare 30 d'argento Ma possiamo sdebitarci In qualche modo Stava dicendo il contrario Fede No no Linciano me Perché mi chiedo troppo Secondo loro Eh vedi Fede il contrario A me è troppo poco Eh vabbè dai Facciamo 30 e basta Tranquilli Cioè comunque Mi sembra un prezzo onesto Perché alla fine Hai comunque anche Preso i livelli di marci C'è voluto un sacco di tempo Cioè comunque No no I livelli di marci Non l'ho preso Ho preso il suo piccone Come? Eh aspetta Controllo subito Fammi trasformare Ho paura che siano quasi tre No 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 Non sono tre Non sono tre Aspetta Abbiamo perso No 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 Allora sono due monete d'argento Due monete di d'oro Ok 51 d'argento Ok Abbiamo già perso 24 di bronzo Siamo 1 e 75 Eh vabbè Mi dispiace Però dai Non siamo messi male E io tra l'altro Ho anche pagato tutti i miei debiti Già Ti devo dire una cosa Sei quanti i livelli di esperienza ho? Quanti? 57 Bene Andiamo Forza Andiamo Seguimi Te li pago Arrivederci Te li pago Non può essere pagato No 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 Grazie Ti do 8 d'argento Vai vai Sì 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 Vai forza A noi non servono A troppo A me servono Quindi vedi È come se ti avessi fatto un altro sconto Pronto? 3 2 1 vai Però ho già dato Ok Ok perfetto Grazie Arrivederci Ah senza che ti pago? Hai ragione Mi ha fatto stancare il postino Non capisco più nulla Sai che lo sapevo che ti aveva bussato il postino Ne ero sicuro È sempre quando c'è la vita in città Sempre Solo che questa va pure la firma Quindi è ancora peggio Sono andato a correre Ciao ragazzi Grazie Ciao Allora Ho sbagliato tasso No sarò mutato Sono mutato Mi controlli se sono mutato su TS? Sì Sono mutato? Sì Credo Io ti ho mutato a prescindere Perché altrimenti sento l'eco Ti dicevo che comunque mi sembra un prezzo giusto Cioè per il casino che c'è voluto Adesso non ho ben capito cosa tu t'ha fatto con Marci Perché ho detto Ah ti ha venduto Credo che sia stato dato Esatto il suo hanno messo pietra preziosa nel piccone di Marci Ok Ah e poi l'hanno Ok E poi hanno uniti i picconi Perché infatti è già utilizzato Comunque ricapitolando Efficienza 5 Unbreaking 3 Smelter Mending Fortuna 3 Pietra preziosa 3 Questo piccone è mostruoso È veramente ma veramente mostruoso Cioè è qualcosa di incredibile Ma infatti ci sta contando che sarà il piccone poi definitivo È un pochino rotto va bene Ma tanto come ending Lo risolviamo facilmente È un peccato che mi sono dimenticato a un certo punto di tenere Mentre fightavamo ma era una missione tosta Quindi è normale che non ci ho pensato Il piccone qua Questo qui trappanetto È il più fine di ripararlo Però insomma La situazione non era delle più semplici Quindi ricapitolando Missione fatta Abbiamo comunque una situazione economica molto interessante Abbiamo completato anche il secondo piccone definitivo E quindi siamo già due Adesso dobbiamo pensare solo Tra virgolette A quelli di fare Quindi iniziamo a essere messi decisamente meglio Quanti picconi mi dovrebbero servire? Uno? Eh sì Beh trappanetto potrei usarlo solo io Ma infatti Però avere doppio trappanetto sarebbe una bomba Vabbè però pensiamo prima a quello un po' più utile Poi a trappanetto ci pensiamo ad un altro momento Comunque ho messo anche il pick up upgrade Che però mi dovete spiegare bene come funziona Credo che tipo io gli dico di lutarmi nel backpack solo determinate cose Tipo i diamanti e così via Datemi conferma se è così perché sei ben interessante Noi ci fermiamo così per questo episodio Bellissimo la vita in città E ci vediamo nel prossimo Ciao ciao